Protagonisti di una nuova Italia, questo lo slogan della festa nazionale della CISL che si è aperta questa mattina a Firenze, dibattiti a confronti sui temi del lavoro e dello sviluppo tra politici e amministratori. Tanti i temi toccati dalla riforma della pubblica amministrazione al tema degli esodati, sulla difficile situazione della Lucchini di Piombino per il segretario generale della CISL. Credo che lì bisognerebbe darci un supplemento di impegno da parte del governo centrale perché tutti a parte del governo abbiamo promesso che quell'area dell'acciaio non si disperde nel paese perché è un polo di sviluppo importante, storico e che ha molto da fare ancora in storia nel nostro paese. Chiediamo ancora di insistere per mantenere in piedi quell'attività. Per quanto riguarda lo stato di salute del lavoro in Italia è stato detto si viaggia a differenti velocità. Tutto l'interinale, quindi tutta la somministrazione sta crescendo in maniera significativa. Abbiamo alcuni altri dati che si muovono in maniera, come posso dire, contraddittoria, ma contraddittoria perché sappiamo che ci sono spezzi dell'apparato produttivo, penso le costruzioni e l'edilizia, che sono in una fase di caduta permanente e quindi su questi abbiamo segnali ancora negativi. Da sanare al più presto la questione degli esodati. Sappiamo che abbiamo un problema latente che è figlio del fatto che ci sono persone in età avanzata che perdono il lavoro, che nonostante gli ammortizzatori sociali non arrivano al pensionamento, abbiamo bisogno di costruire uno strumento di collegamento tra questa situazione e la pensione. Noi non possiamo lasciare gente a spasso senza reddito per un anno, per due anni. Posizioni nettamente divergenti invece sulla riforma della pubblica amministrazione che secondo il governo porterà 15.000 nuovi posti di lavoro. sulla mobilità obbligatoria entro 50 km, Poletti fa notare che in Italia molta gente si sposta per lavoro critico, invece Bonanni. Non mi pare che ci sia un disegno compiuto e soprattutto non capisco perché non si lega invece la questione centrale, la questione della riforma della pubblica amministrazione con la corruzione di legante. Se la riforma della pubblica amministrazione e la lotta alla corruzione è la vicenda delle aspetti di sindacali e così via, la questione si commenta da sé. E non voglio entrarci più, si commenta da sé. Se la strategia è questa, c'è nessuna lotta alla corruzione. E invece il paramento che d'altro anche Brunetta aveva fatto, no? Dalla vicenda di Fannullone e così via, la cosa si commenta da sé. Grazie.